Lezioni d'arte contemporanea a misura di bambino alla presenza di mostri sacri come Andy Warhol, Jeff Koons e Fernand Leger. Dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di mille ragazzi, torna alle reali poste degli uffizi Laboratorio 900, che per questa seconda edizione si concentra sul tema del corpo, sulla sua trasformazione e sul suo camuffamento. Obiettivo dell'iniziativa è quello di fornire ai più piccoli gli occhiali di lettura più adatti per interpretare l'arte contemporanea e le suggestioni che con essa si accompagnano. Un primo passo, secondo il direttore degli uffizi Antonio Natali, per rimettere l'insegnamento della storia dell'arte al centro della didattica, senza un adeguato bagaglio culturale infatti. Quello che noi facciamo nei musei è puro feticismo, è esibizione di reliquie che vengono adorate senza capirle e questa è una cosa che va smontata pezzo per pezzo. L'arte contemporanea poi in Italia, ma soprattutto a Firenze, voi sapete quanto è considerata, basta il nome di cominciare a dire arte con te e già subito la gente arriccia il naso. Per evitare questa reazione serve secondo Natali un cambio di mentalità, che può e deve partire proprio dai bambini, che al termine delle lezioni di Laboratorio 900 hanno la possibilità di dare sfogo alla loro fantasia realizzando autoritratti sull'esempio di quelli appesi alle pareti della sala delle reali poste.